E niente, non è stato collegato a questi bottoni, ah beh perché probabilmente possiamo direttamente comunque con il bottone rosso Eh sì, abbiamo fatto partire una bombola di gas che esplosa, quindi effettivamente questo car armato può sparare Oddio sta atterrando anche l'altra, oh mio dio ma è bellissimo Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale, siamo qui di nuovo dopo tanto tempo Se non contiamo lo scorso episodio, con le creazioni migliori, con le creazioni che voglio mostrarvi e che andremo a provare E la prima creazione che andremo a vedere oggi è tipo gigante, non la vedete ancora perché è alle mie spalle Noi proviamo a girarci ed eccola qui la prima creazione di oggi È un mega razzo, è dotato di propulsori nella parte inferiore circondati da luci e led e sopra è molto molto grande Ora devo solo, ah beh, credo che ci sia un pulsante Ma scusami, no, no scusami Ma volevo guidarlo io, ma non capisco Come faccio ad andare a riprendere quel razzo adesso? E niente abbiamo fatto un lancio, un lancio spaziale, sembra essere andato a buon fine Quindi, oddio, oddio Sta atterrando? Oddio, è atterrato da solo È atterrato, è partito Si sono staccate le pa... Oh, oh, oh Ma le altre... Oh, oh Ma sono que... Ah, ma è quello di SpaceX Oddio, sta atterrando anche l'altra Oh mio Dio, ma è bellissimo Ok, non avevo... Wow, no, no, davvero Cioè, raga, non so se avete seguito questa cosa in diretta quando è successa Ma non mi aspettavo che avessero riprodotto anche i tre piloni che poi scendono Quindi che si possono riutilizzare Che era questa la particolarità, mi pare, di questi razzi qui Che invece di andare persi e distrutti Tornavano sulla terra ed atterravano È una figata Io ci riprovo Anche se potrebbe andare a finire male Perché ci sono già questi qui Quindi se io facessi partire questo qua Ok, parte Sta partendo verso lo spazio Prima o poi si spegne Adesso proverò a guardarlo fino alla fine Per vedere se riusciamo a vedere quando si staccano i razzi Ma presumo che succederà quando il tutto sarà troppo in alto per noi E non si vedrà molto bene Infatti è là in alto E ancora vediamo tre puntini che dovrebbero essere i razzi Che si stanno staccando in questo momento Speriamo che atterri tutto come deve atterrare Lì ce n'è uno e lì c'è l'altro E in mezzo c'è quello principale Ci sono dei micro pezzetti che vediamo Stanno atterrando Che credo siano quei pezzetti qua Che abbiamo trovato in quello di prima E il bello è che è successo tutto senza che Oddio Oddio No 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 Aspetta aspetta Guarda che precisione Sono atterrati accanto Non hanno sbattuto giù niente E il terzo Quando arriva E quello principale Sta scendendo Io vedo ancora due pezzi distinti O forse perché è un effetto No è uno unico molto grosso Che sta atterrando Ok Atterra dritto Oh si accendono i razzi per rallentare pure La caduta E l'atterraggio Ma è una cosa bellissima Comunque ragazzi se siete felici del ritorno Di scrap meccaniche Delle creazioni migliori E magari avete delle creazioni che avete provato E vi piacciono particolarmente Scrivetemi nei commenti Se sono disponibili sul workshop E come si chiamano E potrei andare a controllare Detto questo Direi di passare alla prossima creazione del giorno La seconda creazione di oggi L'avete davanti agli occhi in questo momento Ed è questo mecha Che noi possiamo andare a controllare E comandare a nostro piacimento E ho notato con piacere Che su una delle mani robotiche C'è uno spara patate Quindi è anche dotato di armi E forse c'è un modo per entrarci Senza distruggerlo E credo che sia così Tasto 1 Oh oh Ok Stiamo entrando all'interno del nostro mecha Possiamo girare la parte superiore Con i tasti direzionali Possiamo anche girarci noi stessi In un'altra posizione Con il tasto numero 2 Si abbassa l'arma E sparerà anche per caso Col tasto 3 La facciamo risalire Con il tasto 4 Spariamo Quindi potrebbe essere Anche da un mecha Da combattimento E non solo Figo Cioè noi potremmo usarlo Per distruggere altri mecha E potremmo anche Usarlo per demolire Delle cose Con il tasto numero 5 Invece abbiamo Un'altra arma Che è più corpo a corpo Ovvero con questo pistone Che esce Potremmo dare delle botte A vari oggetti Usciamo da questo mecha Perché voglio andare A posizionare un muro Distruttibile davanti E vedere un po' Come se la cava Ho creato un bersaglio di cartone E ho proprio disegnato sopra Il centro Per andare a provare A sparargli Con il nostro carissimo mecha Entriamo nella nostra bestia Su due zampe Con anche i simboli Molto poco Promettenti Di due teschi Con delle chiavi inglesi sotto Ci giriamo Un attimino Perché devo andare A sparare Proprio A quel bersaglio Che mi si trova davanti E guardate Siamo proprio posizionati giusti Ce l'abbiamo proprio davanti Possiamo andare Un pochino Ecco così Ci rimettiamo In terza persona E andiamo ad abbassare La nostra arma Con il tasto 3 Alziamo un filino La mira Ci spostiamo Un altro pochino Primo colpo Ha colpito la base Ok Dobbiamo alzare Un po' di più la mira Forse adesso funziona Uh Appena troppo in alto Abbassiamo un altro po' No Ho detto abbassia Ha sparato di nuovo Ho detto abbassiamo Ok Forse adesso funziona meglio Uh Quasi colpito Possiamo girarci Un altro pochino E sparare di nuovo Uh Ci stiamo avvicinando Sarà un'impresa In realtà Arrivare proprio A colpire il centro Però se combiniamo Questo E poi spariamo Un colpo Uh Quasi centro perfetto Vai 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 Oh Ho distrutto E ho colpito il centro Come avete visto Abbiamo colpito E perforato Questo muro Che era anche Disegnato sul retro Perché la mia vernice È speciale E Siamo riusciti A beccare Praticamente Il centro Quasi perfetto Però Nessuno sta guardando In questo momento E Abbiamo colpito Il centro perfetto Oh Avete visto L'abbiamo colpito L'abbiamo colpito Non ci sono dubbi Abbiamo colpito Il centro perfetto Con il nostro Mecha Quindi siamo pronti Per la prossima Creazione La prossima creazione È Questo Car armato Che Sembra Che si stia Muovendo Da solo In realtà Praticamente Segue i movimenti Del mio personaggio Quindi se io giro a destra Lui gira a destra Se io vado in alto Lui va in alto Se io vado in basso Lui va in basso Se io vado contro E miro contro Al cartone Al mio bersaglio Di cartone Lui mira verso Il mio bersaglio Di cartone Dobbiamo capire Come fare Per entrare In questa bestiola E cominciare A sparare Qualcosina Eh Ho controllato Meglio All'interno Perché volevo capire Dove era il posto Del guidatore E non c'è Nessun posto Del guidatore La particolarità Di questo Car armato Appunto È che Imita I nostri No Aspetta Aspetta perché Per un attimo Mi è venuto Il simbolino Di guida Mi è venuto Il simbolino Per guidare Per un attimo E adesso è sparito Per quale motivo Comunque questo Dovrebbe essere Lo scorpion tank Di halo Per chi Ha giocato ad halo Ditemi nei commenti Se effettivamente Questo è quel car armato Lì Guardate se io ci giro Da sopra Si gira tutto Nello stesso momento E io non ci sto capendo Più niente Siccome il car armato Di poco fa Era fighissimo Si muoveva E tutto Però non sparava Ho trovato Questo car armato Che in realtà Dovrebbe essere In grado Di sparare Perché vedo Che ha un lanciapatate Che dovrebbe Attivare La bombola Di esplosivo Che è qui E ci sono anche Delle cartucce Che possiamo andare A prendere Quando abbiamo Bisogno di altri colpi Semplicemente Togliendo questa parte Qui Noi facciamo così E queste diventano Disponibili Per l'utilizzo Quindi andiamo a togliere Tutte queste parti qua E anche questa qui Queste bombe qua Spero di non toccarle Sparando con la prima Ci sediamo qua dietro E Niente Non è stato collegato A questi bottoni Ah beh Perché probabilmente Possiamo direttamente Comunque Con il bottone rosso Eh si Abbiamo fatto partire Una bombola di gas Che esplosa Quindi effettivamente Questo car armato Può sparare Ovviamente Se noi adesso Andassimo a schiacciare Lui sparerebbe Solo le patate Vedete che il pistone Darebbe spinta A questi qui Adesso noi questi qua Li prendiamo E con la macchina Saldatrice Andiamo A provare Ad inserire Il prossimo colpo Qui A meno che Non si faccia direttamente Allora Così si alza Così si gira Così si gira Così si abbassa Però sicuramente C'è anche il metodo Per andare a Saldare le altre bombe Quindi prendiamo così Saliamo sopra E dobbiamo cercare Il punto giusto Per attaccare La nostra bomba Non so se in questo modo Funzionerà Perché mi sa che L'ho saldata Proprio L'ho appiccicata Noi ci proviamo Ma potrebbe Esplodere tutto E infatti E infatti È rimasta attaccata No Il mio carro armato No Comunque ragazzi Direi che per questo video È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Se non siete ancora iscritti Potete farlo In questo momento E se Volete altri video Di Scrap Mechanic Ditemelo Ora nei commenti E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao ne